Musica Sequestrate due tonnellate di sigaretta a largo delle coste mazzaresi Depositi nucleari, protesta il prossimo 6 marzo Lavori al piazzale Quinci per la nuova rete fognaria Torna il blog di Salvatore Giacalone Nuovo appuntamento con l'informazione di Teleotto sul canale 190 del Digitale Terrestre in diretta streaming sulla nostra pagina Facebook Apriamo come dai titoli con un sequestro a largo delle coste mazzaresi di due tonnellate di sigarette di contrabbando provenienti dal Nord Africa I dettagli nel servizio Blitz contro il contrabbando di sigarette tra l'Africa e la Sicilia 9 persone sono state arrestate nell'operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Palermo e dal gruppo Aeronavale delle Fiamme Gialle Nei pressi delle coste trapanesi, i finanzieri a bordo delle motovedette e degli elicotteri hanno notato un peschereccio di 20 metri che da Lampedusa si stava dirigendo verso Mazzara del Vallo La nave madre è stata affiancata al limite delle acque territoriali da un veloce motoscafo di 9 metri che ha caricato oltre due tonnellate di sigarette Dopo il trasbordo il peschereccio ha fatto rotta verso le coste africane mentre il motoscafo si diretto verso la Sicilia A questo punto sono entrati in azione i militari coordinati dal nucleo di Polizia Economico-Finanziaria A bordo del motoscafo sono stati trovati tre palermitani sul peschereccio sei tra tunisini, libici ed egiziani e 60.000 euro in contanti nascosti dietro un pannello nella sala macchine Le due imbarcazioni sono state sequestrate e portate nel porto di Mazzara del Vallo Uno dei tre palermitani percepiva da marzo 2020 il reddito di cittadinanza Le oltre due tonnellate di sigarette sequestrate destinate a rifornire ai mercati siciliani e in particolare la piazza di Palermo avrebbero fruttato all'organizzazione circa 300.000 euro Gli arrestati sono stati portati in carcere a Trapani e Palermo a disposizione della procura di Marsala competente per territorio Continuiamo con la cronaca La scomparsa dei dispositivi con le indagini sull'attitante Matteo Messina Denaro è stata archiviata non essendo emersa alcune ipotesi di reato A scriverlo la procura della Repubblica di Palermo come apprende l'Aggi riferendo l'esito giudiziario sulla scomparsa di alcuni supporti informatici denunciata nel 2015 dal finanziere Calogero Pulici per anni applicato alla segreteria dell'allora procuratore aggiunto della DDA di Palermo Teresa Principato che coordinava le indagini sul caponafia di Castelvetrano La denuncia riguardava la scomparsa di un computer portatile da 10 pollici e due pendrive da un gigabyte ciascuno con i file di tutte le indagini su Messina Denaro custoditi all'interno dell'ufficio del PM antimafia La notizia fu rilevata all'Aggi soltanto alcuni anni dopo durante i processi di Caltanisette per cui il finanziere Principato furono assolti Ed ancora notizia di cronaca non si ferma all'alta dei carabinieri e provoca un incidente coinvolgendo sei autovetture il servizio Roccambolesco incidente ieri sera a Campobello di Mazzara con sei auto coinvolte nel pieno centro cittadino protagonista e autore dello scontro è stato un 36enne di Castelvetrano già noto alle forze dell'ordine soltanto qualche giorno fa infatti era stato trovato a bordo di un'auto sprovvisto di patente in possesso di 40 grammi di cocaina l'uomo al volante di una Nissan Patrol dopo aver tamponato violentemente un'auto in sosta ha percorso a velocità sostenuta a via Vittoria Emanuele III una pattuglia dei carabinieri della stazione di Campobello di Mazzara notando il fuoristrada ha ordinato l'alt ma l'uomo invece di fermarsi per i dovuti controlli ha accelerato nel vano tentativo di sottrarsi alla pattuglia tra via Roma e via Garibaldi in violazione della segnaletica stradale che indicava lo stop l'uomo ha colpito un'auto Audi A4 e il violento impatto ha provocato il danneggiamento di altre tre auto parcheggiate fortunatamente il conducente dell'Audi distrutta non ha riportato lesioni gravi ed è stato giudicato guaribile con sette giorni di prognosi considerate le palesi violazioni riscontrate la guida senza patente perché ritirata il rifiuto di sottoposizione agli accertamenti alcolimetrici e per l'assunzione di stupefacenti il rifiuto di fornire indicazione sulla propria identità personale la resistenza opposta nei confronti dei militari operanti la gravità del fatto e la pericolosità del soggetto dopo le formalità di rito l'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari come disposto dall'autorità giudiziaria in attesa di essere giudicato con rito direttissimo e qualche giorno fa i carabinieri avevano fermato due uomini per un controllo rinvenendo 50 grammi di cocaina nascoste in auto dopo le formalità di rito i due erano stati portati al pagliarelli di Palermo per l'udienza di convalide due soggetti di Castelvetrano difesi dall'avvocato Caracci sono stati rimessi in libertà e cambiamo decisamente argomento torniamo a parlare della Sicilia quale aria individuata in alcune sue zone specifiche per il deposito dei rifiuti radioattivi si è svolto un primo incontro pubblico per costruire la mobilitazione del 6 marzo contro il deposito nazionale di rifiuti radioattivi in Sicilia 100 siciliani, rappresentanze di associazioni, comitati e istituzioni locali si sono collegati alle 16 sulla piattaforma telematica mentre diverse migliaia hanno potuto seguire la diretta su Facebook all'incontro organizzato dal collettivo di ecologia politica di Palermo sono intervenuti i comitati popolari mai rifiuti radioattivi delle Madonie di Trapani e di Butera zone interessate dalla possibile costruzione del deposito di scorie e continuiamo con la politica regionale incentivo Resto al Sud si amplia la platea dei beneficiari e si rivolge agli imprenditori fino a 55 anni di età i particolari Resto al Sud amplia la platea dei beneficiari si rivolge agli imprenditori fino a 55 anni d'età e questa è la novità introdotta dalla legge di bilancio 2021 che ha innalzato il precedente limite di 45 anni anche nell'intento di sostenere una delle categorie più in sofferenza del mercato del lavoro post-Covid i cinquantenni che hanno perso il posto di lavoro che rischiano di perderlo nei prossimi mesi l'incentivo diventa pertanto una concreta possibilità di uscita dall'attuale condizione di difficoltà per un universo di lavoratrici e lavoratori in grado di esprimere in una prospettiva di auto-impiego che può valorizzare le competenze maturate nel corso della loro vita professionale una progettualità diversa qualificata e consapevole Resto al Sud è l'incentivo gestito da Invitalia che sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali avviate dagli under 56 nelle regioni del Mezzogiorno La misura sostiene le attività di produzione di beni e servizi e libera professione ma sono escluse dal finanziamento le attività agricole e il commercio Le agevolazioni sono rivolte agli under 56 residenti in Abruzzo Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia al momento della presentazione della domanda Possono presentare domanda i soggetti che non sono già titolari di partita IVA o legali rappresentanti di società per attività di impresa in esercizio alla data del 21 giugno 2017 i soggetti che non hanno un lavoro a tempo indeterminato e si impegnano a non averlo per tutta la durata del finanziamento successivamente all'approvazione del progetto i soggetti che svolgono attualmente attività professionali ma hanno intenzione di avviare un'attività di impresa Le società anche cooperative, le ditte individuali costituite successivamente alla data del 21 giugno 2017 ma che non siano attive al momento di invio della domanda Per presentare la domanda non è necessario aprire partita IVA o costituire società in via preventiva una volta approvato il progetto si procederà con l'avvio formale dell'azienda Per maggiori informazioni sul bando si consiglia di visitare il sito di Invitalia contattare gli enti accreditati per l'assistenza presenti nello stesso sito web E un milione di euro per la cooperazione studentesca con i paesi della riva sud del Mediterraneo Il video dell'assessore Lagalla Come è noto la regione siciliana ha stipulato una convenzione con indire che prevede un forte processo di internazionalizzazione della scuola e dell'università siciliana In questo contesto e sul punto di essere editato è promosso un bando destinato all'istruzione terziaria quindi università, conservatori, accademie di belle arte e istituti tecnici superiori, cosiddetti ITS che avranno la possibilità di costruire e proporre progetti di collaborazione con analoghe istituzioni della sponda sud del Mediterraneo per favorire le attività di ricerca la collaborazione didattica l'integrazione dei giovani e il confronto internazionale Siamo molto contenti di questo passaggio che segna un cambio di passo importante e contribuisce alla diffusione della proposta formativa del nostro sistema di istruzione superiore Il prefetto di Trapani, Tommaso Ricciardi e il commissario straordinario della locale Camera di Commercio Pino Pace hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per favorire la legalità e la trasparenza dell'attività di impresa nel territorio della provincia Il protocollo, si legge in una nota muove dal presupposto che la condizione di forte disagio delle aziende del territorio possa acuire il rischio di infiltrazione delle organizzazioni criminali nell'economia in forza della rilevante capacità economica di cui esse dispongono attraverso il reimpiego di ingenti capitali di provenienza illecita La sicurezza del territorio rappresenta quindi un fattore primario per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale per il buon funzionamento del mercato Tale rapporto di collaborazione permetterà di mettere a sistema in modo efficace conoscenze, dati ed informazioni sul contesto imprenditoriale locale e valorizzare le competenze di analisi delle forze di polizia è stato sottolineato nel corso della sottoscrizione del protocollo E passiamo adesso a Mazzara la nuova rete fognaria che riguarda i due popolosi quartieri di Trasmazzaro e Tonnarella sono per ora in corso gli interventi nel centralissimo piazzale Giovan Battista Quinci per collegare la nuova rete delle acque nere con quella esistente nelle lungomare far sì che i refli possano arrivare al depuratore il servizio di Tiziano Indorato approdano nel piazzale Quinci i lavori di realizzazione del nuovo sistema di raccolta e collettamento delle acque nere che è stato avviato lo scorso mese di maggio a Tonnarella e Trasmazzaro in particolare da lunedì scorso 11 gennaio i lavori sono incentrati sulla realizzazione del collettore che proviene dal Trasmazzaro attraversando il fiume e che dal piazzale Quinci verrà collegato al depuratore centrale di Contrada Boccarena attraverso la rete esistente del lungomare Mazzini lo scorso marzo in piena emergenza Covid la consegna dei lavori è stata effettuata nel corso di una sobria cerimonia in aula consigliare alla presenza del sindaco Salvatore Quinci dei rappresentanti della SoceSid la società in house del Ministero dell'Ambiente a supporto all'attività del commissario per la depurazione e dei rappresentanti del raggruppamento di imprese a giudicatario la conclusione dei lavori avviata lo scorso maggio è prevista entro l'estate 2021 la nuova rete fognaria Acquenere avrà una lunghezza di circa 61 chilometri con nove impianti di sollevamento con collettori a gravità per circa 58 chilometri e mezzo e per la restante parte a pressione per consentire il regolare svolgimento in sicurezza dei lavori il comandante della Polizia Municipale Salvatore Coppolino ha emanato l'ordinanza temporanea numero 3 2021 con la quale si istituisce il divieto di transito e sosta con rimozione forzata nelle aree e vie oggetto degli interventi l'apposita segnaletica al momento visibile nella parte del piazzale Quinci oggetto dei lavori è collocata a cura della ditta esecutrice e a proposito di Mazzara del Vallo una dichiarazione da parte di Diventerà Bellissima Giovani di Mazzara del Vallo la viabilità urbana rappresenta una delle principali criticità che quasi tutte le amministrazioni comunali si trovano a fronteggiare potendo contare spesso su insufficienti risorse economiche quando però lo stato delle strade comunali rischia di pregiudicare l'incomunità pubblica è necessario che la politica intervenga in maniera decisa affinché si mettano in atto tutte le azioni necessarie a prevenire qualsiasi situazione di pericolo per queste ragioni dicono del comitato di Diventerà Bellissima Giovani sentiamo l'esigenza di sottoporre all'attenzione dell'amministrazione comunale lo stato di viabilità urbana lungo la via Monsignor Costantino Trapani la via oggetto è caratterizzata dalla presenza al centro della gareggiata di uno spartitraffico alberato e si richiede pertanto alla civica amministrazione di intervenire con lungimiranza politica sia nell'interesse esclusivo della città e dei cittadini programmando delle azioni a breve termine degli interventi a medio-lungo termine affinché possa essere ovviamente eliminato il pericolo apponendo già da oggi dell'idonea e specifica segnalitica stradale che possa adeguatamente informare i conducenti dei veicoli a prevenire situazioni tali e ancora a Mazzare del Vallo il comune intende incrementare le attività del portale tutto gare per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e pertanto rivolge un invito a tutti gli operatori economici di registrarsi nel portale tutto gare Il comune di Mazzare del Vallo intende incrementare le attività del portale tutto gare per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria Un invito agli operatori economici non ancora registrati nel portale tutto gare affinché si registrino e possano essere inseriti nell'elenco informatico di operatori per l'affidamento dei servizi arriva dal neodirigente del settore servizi alla città e alle imprese architetto Maurizio Falzone Non sono previsti termini di scadenza per l'iscrizione e l'elenco è sempre aperto per tutta la sua durata all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti se però non si è iscritti non è possibile concorrere all'affidamento dei servizi e nel caso di iscrizione avvenuta dopo la pubblicazione di una procedura di gara non è possibile partecipare alle procedure in corso ma solo a quelle pubblicate in data successiva all'iscrizione la piattaforma telematica denominata tutto gare fruibile mediante accesso al sito istituzionale www.mazzaradelvallo.tp.it oppure in alternativa direttamente mediante accesso all'indirizzo appalti.comune.mazzaradelvallo.tp.it contiene il modello di registrazione la domanda deve essere sottoscritta con firma digitale ai sensi del codice dell'amministrazione digitale dal legale rappresentante dell'impresa interessata o dal suo procuratore speciale in tal caso unitamente alla domanda deve essere trasmessa la copia autenticata della procura notarile si ricorda che la firma digitale non necessita di allegazione della carta d'identità a seguito dell'informatizzazione della procedura di costituzione dell'elenco degli operatori economici l'iscrizione a questo elenco informatico si svolgerà esclusivamente mediante la piattaforma telematica tutto gare del comune di Mazzara del Vallo Snellimento delle procedure relative al condono edilizio la Giunta Municipale di Mazzara del Vallo dispone l'accettazione delle perizie esclusivamente per via telematica i particolari sempre nel servizio di Tiziano Indorato La Giunta Municipale di Mazzara del Vallo con delibera numero 3 2021 ha disposto che per le procedure di condono edilizio il servizio urbanistica accetti esclusivamente per via telematica le perizie giurate presentate dai progettisti incaricati Snellire le procedure relative al condono edilizio nel pieno rispetto e in attuazione della legge regionale numero 16 del 2016 che ha recepito con modifiche il testo unico per l'edilizia commenta l'assessora ai lavori pubblici Michele Reina è uno degli obiettivi prioritari che la nostra amministrazione intende centrare per venire incontro sempre di più a cittadini, imprese e professionisti del settore tecnico che richiedono procedure snelle e celeri soprattutto in questo particolare periodo nel quale sono in corso numerose richieste e procedure per sfruttare gli effetti positivi dell'eco bonus 110% Si tratta di un'ulteriore azione, prosegue Reina che segue gli altri provvedimenti varati dalla nostra Giunta con il via libera del Consiglio Comunale riduzione dell'Imu e riduzione degli oneri di urbanizzazione Naturalmente concludere in alle perizie giurate inviate telematicamente oltre ai controlli generali a campione nella misura minima del 10% saranno controllate anche per la parte degli accertamenti tributari relativi a corretti versamenti di Imu e Tari Come previsto dalla normativa in vigore trascorso il termine di 90 giorni dalla data di deposito della perizia senza che sia stato emesso provvedimento di approvazione o di niego del condono la stessa perizia acquisirà efficacia di titolo abitativo Alla delibera di Giunta è stato allegato lo schema tipo di perizia giurata E spostiamoci nella vicina a Campobello di Mazzara dove continua incessante l'azione amministrativa di controllo portata avanti dall'opposizione I consiglieri di Maria, Montalbano, Catanzaro, Prinzivalli e Fazzuni hanno indirizzato al diricente dei lavori pubblici per tramite il segretario generale dell'Ento una richiesta di accesso agli atti I consiglieri vogliono vederci chiaro sugli appalti affidati dall'amministrazione Castiglione nella passata e nella nuova consigliatura e nella richiesta di accesso agli atti hanno chiesto di acquisire documentazione riguardante tutti i lavori pubblici eseguiti ed affidati nel territorio di Campobello a partire dal 17 novembre 2014 la tipologia dei contratti e del costo di ogni singolo intervento con l'indicazione dei contraenti i lavori affidati con urgenza o sommorgenza specificando le ditte affidatari, gli importi e i criteri per l'affidamento E torniamo a parlare di Trapani, capitale della cultura 2022 sprint finale sul tavolo anche la carta della scrittrice Stefania Auci le dieci città che si contendono il titolo di capitale italiana della cultura 2022 domani e venerdì saranno chiamate dal Ministero dei Beni Culturali a un'edizione online un incontro di presentazione pubblica e di approfondimento finalizzata alla valutazione conclusiva per l'assegnazione del riconoscimento la città di Trapani sarà in gioco venerdì dalle 12 alle 13 scusatemi l'evento si svolgerà in videoconferenza streaming la pubblicità delle audizioni sarà garantita tramite la diretta sul canale YouTube del Ministero e sulla pagina Facebook Trapani 2022 la decisione per la città capitale della cultura 2022 avverrà il 18 gennaio è una piccola nota positiva di sport per quanto riguarda il circolo schermistico mazzarese dopo le ultime convocazioni nella nazionale under 20 di sciabola maschile di Salvatore Pugliese come atleta e dei maestri Giuseppe Pugliese e Gianfranco Antero nello staff tecnico nuove buone notizie arrivano dalla nazionale di sciabola femminile under 20 con ben sette tesserate al circolo schermistico mazzarese selezionate ed autorizzate a partecipare al primo stage di allenamento di alto livello del 2021 le atlete convocate sono Diletta Andaloro, Simona Nicastro, Marika Lagrutta, Clara Maria Pignoli Alice Errenda, Elena Albiolo e Sara Arena l'allenamento che prevede sia gara sia stage di alta specializzazione si terrà dal 17 al 24 gennaio a Cascia e si svolgerà dal 17 al 26 settembre 2021 la prossima edizione del Cuscus Fest il festival internazionale dell'integrazione culturale organizzata dal comune di San Vito Lo Capo e dall'agenzia di comunicazione Feedback, producer dell'evento la manifestazione che ha subito lo stop lo scorso settembre a causa del covid torna dunque ad essere programmata per il 2021 si pensa dunque a riprogrammare quello che è l'evento di punta del territorio ma anche uno dei maggiori eventi italiani del settore nella prossima edizione sarà nel segno del riconoscimento del Cuscus quale patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO annunciata già lo scorso dicembre e come ogni mercoledì torna a farci compagnia blog di Salvatore Giacalone Durante la pandemia è raddoppiata la propensione al risparmio degli italiani a settembre sui conti correnti erano depositati 1682 miliardi di euro quanto il PIL del Paese un eccesso di liquidità che oltre a non essere redditizia ha ripercussione anche sull'economia da un giorno all'altro in un attimo è cambiato tutto lockdown, aziende chiuse, quarantene, smart working, isolamento sociale, didattica a distanza il Covid-19 ha rivoluzionato abitudini e comportamenti di aziende, persone e istituzioni ridefinendo un nuovo ordine economico mondiale soprattutto vediamo un'economia italiana che è a pezzi dalla pandemia di coronavirus una situazione pesante causata in parte anche dall'esplosione della propensione al risparmio da parte degli italiani da una parte l'impossibilità di spendere denaro a causa del blocco delle attività economiche dall'altro l'ansia e l'incertezza sul futuro spingono infatti sempre più gli italiani a un drammatico mutamento delle scelte finanziarie con un ritorno alla liquidità tanta, troppa liquidità a settembre, come si diceva, secondo i dati ABB sui conti correnti degli italiani erano depositati 1682 miliardi di euro una vera montagna di denaro fermo denaro conservato sui conti correnti per fare fronte a eventuali necessità e possibili peggioramenti delle prospettive di reddito ma che nel frattempo perde costantemente valore in questo specifico frangente non più per l'effetto inflazionistico ma perché i tassi di interesse sui depositi quando non già negativi sono totalmente azzerati e le commissioni bancarie le spese, i bolli e le imposte erodono inesorabilmente il capitale un dato è certo se i soldi restano depositati nelle banche o alle poste l'economia non gira le aziende chiudono operai e impiegati vengono licenziati la speranza è che questo vaccino che uccide il virus venga rapidamente iniettato ad un buon 70% della popolazione e che i cittadini possano uscire dalle loro case e tornare a spendere come prima sarebbe già un gran passo avanti per la ripresa dell'economia alla prossima e con blog si è chiuso il nostro notiziario io vi ricordo che potete continuare a seguirci sul nostro sito www.teleottotv.it o sui nostri canali social e per il momento è tutto l'appuntamento alla prossima edizione del TG8 Informazione www.teleottv.it 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 www.teleottv.it